In questo numero aumento in busta paga per i dipendenti del servizio sanitario regionale impegnati nella lotta al coronavirus. Covid è nuova ordinanza sui test sierologici, priorità alle categorie di persone più esposte, no ai test rapidi effettuati nelle strutture private non convenzionate. Covid è conservato gli abbonamenti al trasporto pubblico locale di marzo, la regione sta studiando misure compensative per chi non ha potuto utilizzarli. E acquistate, anche se siamo in emergenza, prodotti toscani, appello ai cittadini dell'assessore all'agricoltura Remaschi. 8 milioni di euro per i contributi per gli affitti. Delle famiglie in difficoltà sono stati stanziati dalla regione e saranno erogati dai comuni. In considerazione dell'eccezionale impegno prodigato dal personale sanitario durante l'epidemia di coronavirus, la regione toscana ha deciso di riconoscere un compenso giornaliero aggiuntivo a tutti i sanitari impegnati nella lotta al virus. In particolare, questi dipendenti troveranno in busta paga dai 20 ai 45 euro al giorno in più, a seconda del rischio biologico cui sono esposti per il periodo compreso fra il 17 marzo e il 30 aprile 2020. Il provvedimento è frutto di un accordo sottoscritto con CGL Cisle Will della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Primi risultati per lo screening serologico disposto dalla regione per tutto il personale sanitario. I test effettuati su un campione di 1.167 sanitari del Policlinico di Careggio ha dato risultati confortanti in merito all'efficacia delle misure di sicurezza adottate finora. Solo 54 persone sono risultate positive, mentre oltre il 95% è risultato negativo. La regione ha disposto esami a tappeto anche nelle residenze sanitarie assistite e in quattro giorni sono stati effettuati quasi 5.000 tamponi, di cui 667 sono risultati positivi al Covid, circa il 13% del totale. Il presidente della regione ha poi firmato una nuova ordinanza per regolamentare l'utilizzo dei test sierologici, vietando che vengano eseguiti in laboratori privati non convenzionati e individuando alcune categorie di persone con precedenza assoluta. D'ora in poi, quindi, i test rapidi saranno effettuati su operatori sanitari, sul personale e gli ospiti delle case di riposo, su volontari impegnati nell'assistenza sanitaria e sociale, su farmacisti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, personale dei penitenziari, oppure su persone che manifestano sintomi di infezione da Covid, ma solo su richiesta del medico o del pediatra di famiglia. Inoltre bisogna precisare che questi test di per sé non hanno una valenza diagnostica definitiva e che quindi dopo il test sierologico, per chi risultasse positivo, è necessario passare all'esame diagnostico molecolare. Di qui la necessità che i test vengano eseguiti soltanto nelle strutture pubblico o in laboratori privati convenzionati. In caso contrario, Rossi è stato categorico. Noi pensiamo che se ci sono strutture private che hanno disponibilità di test sierologici possono organizzarsi con noi. Noi siamo disponibili a fare convenzioni e a lavorare insieme, ma data la scarsità del test sierologico che abbiamo a disposizione, non sono possibili iniziative che non sono tracciabili. La Regione Toscana quindi vieta di eseguire i test in laboratori privati non convenzionati. È evidente che per non sprecare questa risorsa del test, che è una risorsa limitata, qualora noi avvertissimo che in giro ci sono iniziative, ci venisse segnalato che ci sono iniziative al di fuori di questo quadro, noi non avremmo timore ad avvertire immediatamente la protezione civile nazionale e io richiederò al Dipartimento della protezione civile nazionale di effettuare il sequestro dei test. I decreti del Governo per limitare gli spostamenti della popolazione durante l'emergenza coronavirus hanno portato a una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, rispettando comunque le esigenze dei pendolari toscani, soprattutto se lavorano nei complessi ospedalieri. La Regione però sta lavorando alla tutela degli utenti che avevano già acquistato l'abbonamento per il mese di marzo e non l'hanno potuto utilizzare. L'invito è a conservare l'abbonamento in attesa che vengano definite possibili misure compensative. Indicazione valida per treni, autobus e traghetti. Invito tutti i possessori degli abbonamenti di marzo non goduti a tenerli in tasca e poi faremo sapere come questa questione si potrà evolvere, spero nel migliore dei modi, potrendo appunto riattivare la validità dell'abbonamento nel momento in cui riprenderanno le esigenze di trasporto pubblico locale. Le Regioni stanno lavorando anche alla costituzione di un fondo a supporto delle aziende del TPL i cui introiti si sono ridotti ai minimi termini. Fra le novità, lo stanziamento di 4 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico anche nelle zone della Toscana periferiche e svantaggiate. Oltre a questo, la validità dei tagliandi ISEE TPL 2019 è stata prorogata fino al 30 giugno 2020 per evitare che le persone che devono richiedere i nuovi tagliandi per usufruire delle tariffe agevolate si affollino negli uffici. L'epidemia di coronavirus ha cambiato anche il modo di fare la spesa e più penalizzati sono i prodotti freschi e quelli tipici della Toscana. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remasca ha quindi rivolto un appello ai cittadini per ricordare loro di acquistare i prodotti agroalimentari toscani che sono da sempre garanzia di qualità. È un momento importante nel quale dando attenzione ai nostri comportamenti e quindi mangiando toscano si può dare una risposta positiva anche ai nostri agricoltori. Noi spesso lo diciamo, vogliamo preservare le filiere a chilometri zero, vogliamo preservare la salubrità e la tracciabilità dei nostri prodotti. La grande qualità del prodotto agroalimentare toscano, facendo uno sforzo e quando si acquista, prestando grande attenzione a cosa si acquista, comprate toscano. Mangiare toscano è sicuramente un aspetto molto più importante e possiamo sostenere il nostro settore agroalimentare. Questa è la sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, è un messaggio di speranza, è un messaggio di grande importanza per questo settore. Per dare una risposta immediata alle famiglie in difficoltà economiche per l'emergenza coronavirus, la Regione Toscana ha stanziato 8 milioni di euro che saranno utilizzati come contributo straordinario al pagamento degli affitti. La maggior parte delle risorse sono già state trasferite ai comuni toscani, cui spetta l'erogazione del contributo. I comuni dovranno quindi predisporre rapidamente un bando che consenta di distribuire i contributi già per gli affitti del mese di aprile. I contributi possono arrivare ad un massimo di 300 euro nei comuni ad alta tensione abitativa e 250 euro negli altri comuni. In entrambi i casi però non potranno superare il 50% del costo dell'affitto. Potranno presentare domanda le famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi che hanno un reddito certificato ISEE 2019 inferiore a 28.600 euro, attestando che l'emergenza coronavirus ha ridotto il loro reddito di almeno il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Regione ha già messo in programma la possibilità di estendere il provvedimento anche per i mesi di maggio e giugno. Grazie per la visione!